Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il riccio è un piccolo mammifero noto per il suo caratteristico corpo coperto di aculei. Questi animali sono solitari e notturni. Trascorrere la maggior parte del giorno nascosti sotto foglie o intane. Si adattano a diversi ambienti, dalla campagna ai giardini urbani, giocando un ruolo importante nel controllo delle popolazioni di insetti e altri piccoli invertebrati. I ricci raggiungono una lunghezza di 20-35 cm e possono pesare fino a 1,4 kg. La loro aspettativa di vita in natura è di circa 10 anni. Gli aculei, che coprono la maggior parte del corpo eccetto il viso, le zampe e la pancia, servono come meccanismo di difesa contro i predatori. Il loro colore varia generalmente dal marrone al grigio. I ricci sono principalmente insettivori, consumando una varietà di invertebrati tra cui lumache, lombrichi e insetti. La loro dieta include anche piccole quantità di frutta e semi. Questi animali hanno un ruolo ecologico significativo nel controllo delle popolazioni di parassiti. I predatori naturali dei ricci includono gufi, volpi e tassi, ma spesso la loro capacità di arrotolarsi in una palla coperta di aculei li protegge da molti nemici. I ricci sono diffusi in molti ambienti, inclusi foreste, prati, giardini e parchi urbani. Preferiscono aree con abbondante copertura vegetale e terreno morbido per scavare. La loro presenza è comune in Europa, Asia e Africa. La capacità di adattarsi a vicinanze umane ha permesso ai ricci di prosperare anche in aree urbane e suburbane, dove possono essere spesso avvistati durante le ore notturne in cerca di cibo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.